Benvenuti! Oggi 16 aprile, il santo del giorno è San Ceciliano. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo l'opinionista Giampiero Mughini. Ed ora passiamo all'oroscopo. A diete, per le coppie di lunga data che hanno vissuto una crisi consiglio di andare oltre, ora bisogna essere molto positivi. Con queste stelle si può avere moltissimo, ma la maggioranza noterà un cambiamento dopo una crisi. Toro, se oggi alzi un polverone rischi di divenire eccezionalmente polemico e di creare qualche disagio in più. La situazione lavorativa è piuttosto stancante e se oggi ci sono discussioni in merito al denaro sarà meglio valutare tutto con cautela. Gemelli. Piccoli fastidi ma solo nelle coppie di lunga data che si fanno i dispetti. Cerca nuove opportunità, non esclusa una proposta di lavoro importante. Arriva proprio in questi giorni per chi ha fatto richieste chiare nel passato. Cancro. È facile che in questa giornata qualcuno ricevano una risposta, uno dei momenti più interessanti di aprile. C'è chi ha avuto un figlio, altri progettano grandi cose, chi è solo dovrebbe darsi da fare, incontri fortunati. Leone. Non è la giornata migliore per affrontare i problemi, soprattutto se nel passato ci sono state delle difficoltà. Ha intenzione di farti valere, ma non è facile in questa giornata. Sarebbe opportuno provare nuove strade sul lavoro, ma non escluso che questo sia l'anno del grande rilancio e qualcuno già lo sa. Vergine. Bella questa giornata particolare per amare e per vivere la passione. La forza è maggiore anche sul lavoro. Chi ha fatto una richiesta può già avere una proposta o una promessa per settembre. Bilancia. Oggi potresti vivere nuove sensazioni. Tutte le situazioni e intuizioni sono migliori. Più ci avviciniamo all'estate, più il tuo segno è tra i favoriti. È facile oggi recuperare energia psicofisica. Scorpione. È il periodo giusto per conoscere gente piacevole se il tuo cuore è solo da tempo. I giovani possono ricevere una bella proposta, ma è importante essere positivi nei confronti di tutto e non pensare sempre in negativo. Sagittario. Gli incontri che si fanno ora sono importanti, ma attenzione se c'è un ex, una situazione che non ti piace più, è difficile non discutere. Periodo migliore per cercare qualcosa di nuovo. È una situazione astrologica molto interessante anche per il lavoro, che ha un'attività impropria e vede giorno dopo giorno la possibilità di un recupero. Capricorno. Le situazioni che nascono in queste ore sono decisamente importanti. Incontri piacevoli entro la giornata di domenica. In questo momento devi guardare bene la situazione economica, perché è possibile che ci siano difficoltà o qualche ritardo nelle trattative. Acquario. Non è la giornata ideale per mettersi a discutere. Quelli che vivono un amore da poco danno spazio alle emozioni piano piano. Non è l'anno dei grandi investimenti e chi deve acquistare qualcosa sarà bene che prenda informazioni anche sul venditore. Pesci. Una grande effervescenza, emozioni forti. Le nuove responsabilità sono importanti e adesso sarà possibile gestire al meglio ogni nuovo contatto. Non farti prendere da inutili ansie. Proverbi del giorno. Se sei onesto, Dio farà il resto. Questo è tutto per oggi. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS